Aule e laboratori nuovi per gli studenti della succursale dell'Istituto Caetani su Lungotevere Diaz a Roma. Grazie ad un investimento di circa 165 mila euro, la struttura potrà ora contare su 7 nuove aule didattiche, laboratori linguistici e multimediali e ad un'aula magna. È sempre un motivo di orgoglio per l'amministrazione provinciale inaugurare aule nuove a favore delle nostre scuole superiori della provincia di Roma. In questo caso all'Istituto Superiore Caetani sono state inaugurate 7 aule, l'aula magna più laboratori multimediali. Crescita e modernizzazione della scuola per la quale la provincia di Roma ha stanziato risorse consistenti con l'obiettivo di mettere in condizione gli studenti di sviluppare creatività e conoscenza con mezzi nuovi.